Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, aspettate, benvenuti in questo nuovo video, faccio un giocattolo ma non ci serve, oggi saluto Chiara, Giulia, Beatrice, Eva, Eva, poi Sofia e Alice, Martina e quelli che mi seguiranno tra pochi mesi, andiamo! Andiamo dai, tanto sicuro Mr. X è venuto nel mondo, è in fondo, ah una bella giornata di pioggia, guardate ho fatto la piscina, un mini retro massaggio, c'è anche il balcone qui, infatti ho fatto il secondo piano, e poi andiamo nel giardino di retro, oh che meraviglia! Qua c'è il mio cagnolino che mangia sempre il letto, cagnolino, devo andare, allora qua volevo fare una terrazza, ma non si poteva fare, qua ci sono tutte le mie spade, qua un po' gioco di cosette, e qui un balcone, che lo amo! Andiamo, poi non si va più nessun altro piano, e così sarebbe stato più facile salire, andiamo! La mia piscina è molto naturale, perché l'ho circondata di foglie, e gli ho messo pure quei cosi per le rane che ci vanno sopra, li sto per fare parkour, e poi una piscinetta piccola per altezza di Minecraft, ora andiamo nel mio... Di nuovo? Mi sono stancata! Poi perché c'è dei cartelli all'inventario? Boh, forse me li ha messi Mr. X, però per ora... Andiamo di dietro allora... Prova 3, 24 ore nella casa tua Mr. X Ma una cacata! Chi è stato la mattina o la sera dentro qui? Però io voglio stare un tutorial nella piscina! No, manco nel balcone o nella piscina! E ora questo... Allora, prima dobbiamo andare a dormire, prima di cominciare questa, perché raga... Così non si può! Ha finito di piovere? No! Porca miseria! Per pettinare! Cambia colore! Questa è una bellissima pubblicità! Dai, dai! Comincia! Dai, dai, comincia! No, perché qua c'è uno che mi fa arrabbiare! Perché? Non mi dire che si è buggato! Si è buggato! Perché si è buggato? Ah, un attimo! È una pubblicità! Una pubblicità? Ragazzi, dai! Perché mi diceci, dai? Perché sto facendo un video! Il nostro Play Store non lo devo cancellare! Mi fa schifo! Io non voglio più giocattoli oltre! Forse qualcosa! Comunque! È qua sotto la scrivania! Ragazzi, il video di oggi si deve per forza concludere qui! A domani! Ciao!